Da dove viene? Da dove viene la soluzione di un problema? Commento. La soluzione di un problema è offerta dall'attività dei sottopiani intellettivi del corpo mentale. Tutta la nostra attività mentale consiste nella vibrazione dei sette sottopiani del nostro corpo mentale che, per alcuni maestri immateriali, è così suddiviso. I primi due sottopiani, i più densi di materia mentale, anche il pensiero infatti è materia, costituiscono la mente istintiva. Il terzo, quarto e quinto sottopiano costituiscono la mente intellettiva. Il sesto e il settimo sottopiano costituiscono la mente supernormale. La differenza tra questi sottopiani è nella diversa densità della materia mentale che noi chiamiamo pensiero. Il pensiero istintivo, che è la nostra vita istintiva, è dato dalla vibrazione della materia dei sottopiani istintivi. Il pensiero intellettivo, che è la nostra vita intellettiva, è dato dalla vibrazione della materia dei sottopiani intellettivi. Il pensiero supernormale, che è il pensiero di chi vive in gran parte di coscienza, è dato dalla vibrazione della materia dei sottopiani supernormali. Ma attenzione! Tutte queste distinzioni sono molto più comprensibili se gli si attribuisce il significato di stati di coscienza progressivi.